In questo tutorial vedremo quali sono le fasi principali della ricerca bibliografica e come si possa arrivare alla definizione del quesito di ricerca. Per ricerca bibliografica intendiamo una ricerca di documenti di varia tipologia che contengano informazioni su un argomento di nostro interesse, utili per raggiungere un determinato scopo. Quindi, quando ci accingiamo a svolgere una ricerca bibliografica, prima di tutto dobbiamo chiarire nel modo più specifico possibile quali siano l'argomento e lo scopo della ricerca e quali documenti ci serva a recuperare per raggiungere il nostro obiettivo. Aver definito con chiarezza e precisione argomento, scopo e tipologia di documenti sarà fondamentale per compiere i passi successivi. Facciamo un esempio. Se il nostro bisogno di informazione è più specifico, dovremo aggiungere tutti gli altri elementi utili a definirlo, chiedendoci ad esempio quali aspetti particolari della disfagia ci interessi approfondire o quale categoria di pazienti. Ad esempio diremo che ci interessa la qualità della vita nel paziente disfagico adulto. Così formulato, questo può essere l'argomento della nostra tesi o di un progetto di tirocinio e in questo caso ci servirà a recuperare degli articoli aggiornati o delle revisioni pubblicati su periodici scientifici. Se invece dobbiamo scrivere noi una revisione della letteratura, avremo bisogno di recuperare il maggior numero possibile di articoli di elevata qualità. Infine, se ci servono informazioni pratiche per prenderci cura di un paziente reale, cercheremo piuttosto delle linee guida, delle revisioni sistematiche o altre tipologie di documenti evidence-based. Un metodo utile per costruire quesiti clinici specifici è il metodo PICO, che consente di analizzare il quesito ed evidenziarne i concetti chiave scomponendoli in quattro parti, ed è proposto anche da alcune banche dati, come Embase o Trip Database. Alla P corrisponde il paziente o problema, alla I l'intervento, alla C il confronto, alla O l'outcome o esito. Ad esempio, se il nostro quesito è quanto è efficace l'agopuntura rispetto alla medicina occidentale per ridurre il dolore nei pazienti che soffrono di sciatica, diremo che il paziente o problema è la sciatica. L'intervento di nostro interesse è l'agopuntura e il confronto che vorremmo effettuare sarà con la medicina occidentale, mentre l'outcome la riduzione del dolore. Adesso tocca a voi. Esercitatevi a formulare un quesito di ricerca specifico su un argomento di vostro interesse. Buona ricerca!